favij sei un canale di merda ma tu sei soltanto una merdaccia umana questo canale mi fa proprio mi fa proprio arrabbiare che canale inutile e un canale che non serve a nulla certi canali bisognerebbe ricancellarli dalla faccia della terra è soltanto un raccomandato non è bravo non è niente è soltanto una fava è una fava mi fa veramente che altro devo dire di questo canale oltre a dire che fa cagare non ho altro da dire alla prossima dal signor morte